Ciao a tutti! Oggi un video molto particolare che mi è nato da uno di quei tag che girano su Facebook e che a volte a me piacciono, lo ammetto. In questo caso il tag era posta uno dei dieci dischi che più ti hanno segnato nella tua vita, postane uno al giorno e tagga degli amici. Ecco, vabbè, queste cose un po' a trescine. Mi hanno taggato, l'ho fatto anch'io e questo tag mi è servito per effettivamente riscoprire i dischi che comunque mi hanno segnato, mi hanno cambiato la vita e che riascolto tuttora. Attenzione, per dischi che ti hanno segnato non significa necessariamente i tuoi preferiti. Cioè, sono tutti dischi che rientrano tra i miei preferiti, ma ci sono tantissimi dischi che adoro allo stesso livello e che però non riesco a dire che mi hanno cambiato la vita. C'è una differenza. In linea generale sono tutti dischi che per me significano qualcosa e che riascolto tuttora. Quindi anche quei dischi che ritengo importanti per la mia formazione, ma che non ascolto più spesso, perché magari legati all'infanzia, all'adolescenza, eccetera eccetera, ma non li ascolto più perché i miei gusti sono cambiati, non rientrano qui. Un'altra cosa che mi sono autoimposto è un solo disco per artista. Molto importante perché così si crea un po' di varietà. Se siete curiosi vi lascio appunto alla lista dei miei dischi qua sotto e vi invito a fare lo stesso. Ebbene sì, io sono una delle poche persone che compra ancora CD, anche se questi dischi in realtà mi accompagnano da tantissimo tempo. Due di questi non li possiedo semplicemente per il fatto che non si trovano. Cioè sono abbastanza rari, ma tuttavia hanno segnato diciamo la mia esistenza, quindi non potevo non nominarli. Iniziamo subito. Naturalmente voi sapete che la mia cantante preferita di sempre è Bjork. Difficilissimo scegliere uno dei suoi album, uno solo, perché per me hanno significato tutti qualcosa. Almeno fino a Medulla. Gli altri, per quanto io li adori alla follia, non mi hanno cambiato nel profondo. Sarà anche che non è passato così tanto tempo. C'è stato un periodo in cui ascoltavo solo Vulnicura, ma in linea generale i primi dischi sono quelli che mi hanno proprio segnato nell'esistenza. Se dovessi scegliere un solo suo album, probabilmente sceglierei questo in realtà, che è Vespertin. Vespertin è un album che io trovo perfetto. Difficile scegliere tra questo, Omogenic o Medulla, che sono i tre che io preferisco e metto allo stesso livello. Ma Vespertin secondo me è perfetto anche perché parla all'anima. È un disco profondo che proprio mi mette i brividi quando lo ascolto. Quando lo ascolto la prima volta, giovanissimo, perché io Biorco l'ho iniziata a ascoltare prestissimo, ed è l'unica artista di quei tempi che ascolto tuttora, mi ha parlato proprio all'anima e mi dà sempre le stesse identiche emozioni ogni volta che riascolto questo album. Questo album che, ascoltato in inverno, ti cala subito in un clima estremamente nevoso. Ha ascoltato d'estate e porta quella freschezza perché è un disco molto nevoso, molto freddo. Sembra proprio di stare in una baita sperduta nella neve, no? E ha questo modo di cantare l'amore, la seduzione, completamente travolgente. E allo stesso tempo io adoro come molto spesso lei da artista, per raccontare l'innamoramento, usi delle immagini, che io trovo poeticamente meravigliose. Anche quando si introduce in territori torbidi tra Asgri. Ed è una prospettiva fortemente femminile, che io apprezzo molto, rispetto a come viene trattato solitamente il tema del sesso all'interno delle canzoni. Ad esempio c'è Cocoon in questo album, che io ritengo una canzone straordinaria. Anche se la mia preferita di questo disco è Pagan Poetry, anche Unison. Pagan Poetry e Unison sono le mie preferite e Aneco Stain, queste tre sono le mie preferite in realtà. Però c'è Cocoon, che è quest'altro capolavoro, in cui lei racconta questa immagine semplice e forte di lei che fa l'amore con il suo uomo. Entrambi si addormentano e lei celebra questa gioia nel risvegliarsi dentro di lui, nei due amanti che sono uniti l'uno con l'altro. Lei proprio ha questa gioia di raccontartelo, con questa canzone estremamente dolce, molto carnale, perché parla di quello ragazzi, cioè se sta a fare le cose. Però con questa gioia dell'amore che si percepisce, bellissima. È un disco che racconta l'amore in un modo veramente innovativo e originale, e che parla al cuore, ed è musicalmente perfetto. In realtà però il disco della mia vita, quello che ritengo veramente life-changing, è questo, che ha la copertina più discutibile di sempre, anche se la storia che c'è dietro è affascinante, ed è A Promise degli Shushu. A Promise degli Shushu è un album che io ritengo un buco nero. Gli Shushu sono la mia band preferita. A Promise trovo che sia uno dei dischi più belli, se non il più bello, che abbia mai ascoltato, semplicemente perché non esiste nulla del genere. È proprio un buco nero, non ha timore alcuno di essere non orecchiabile, di essere, non ha timore di essere violento, di essere estremamente deprimente. Quando mi viene detto, questa cantante, questo cantante fa della musica depressissima, io lì lancio sempre una copia di A Promise per dire, ma dove vuoi andare? È un disco estremamente da breakdown. Però, allo stesso tempo, è un disco per chi ha il coraggio di guardarsi dentro. E, in un certo senso, anche se estremamente deprimente, che io ascolto sempre, quando sono arrabbiato lo ascolto, questo disco, allo stesso tempo è esorcizzante. E ha delle canzoni che sono tra le più belle che abbia mai sentito. Young Curtis Wishlist, Apistad Commander, ma di che stiamo parlando? Bellissimo. Andando invece su dischi un po' più... Ah, la storia della copertina, che è molto criticata, in realtà è molto interessante, perché questa copertina è molto hard, con questo tizio nudo che regge un bambolotto. In realtà, Jamie Stewart, che è il leader della band, in realtà è lui, Shushu, in realtà. Poi lui ha sempre i collaboratori che girano. Comunque, l'idea generale della copertina è appunto questo viaggio che lui ha intrapreso. C'era questo escort che l'ha sedotto. Lui l'ha pagato per fargli delle foto. E questo tizio si è messo in posa. Nonostante fosse deperito, nonostante fosse triste, nonostante lottasse per la sopravvivenza, anche in quel contesto lì, weird, del fare le foto, lui si sforzava di essere sensuale. Ed è proprio l'anima dell'album, una sensualità triste, che è molto forte. Quindi dovete essere preparati, ma vi cambierà la vita, probabilmente. Andando sui classiconi, impossibile non citare Morrissey, in particolare gli Smiths con The Queen Is Dead, ma di che stiamo parlando un disco epocale perfetto. Impossibile trattenere le lacrime su I Know It's Over. Canzone stupenda. Questo qua è uno dei must di ogni adolescente trasgli che si rispetti e che resta per tutta l'età adulta. Un genere completamente diverso, invece, Mezzanine, dei Massivattac, che tra l'altro è stato votato il miglior disco per fare le cosacce in tutte le classifiche musicali. È un disco effettivamente molto sensuale, molto notturno, contiene alcuni dei pezzi più belli che abbiamo mai sentito, come Inertia Creeps, Rising Sun, Angel. Meraviglioso. Super sexy, super notturno, elegantissimo. e, per non parlare, se volete sentire un'estasi musicale, ascoltatevi la chiusura di una canzone come Group 4. Io stento a credere che i Massivattac siano umani per aver potuto creare quel tipo di atmosfera spaziale. Tornando, invece, a un'altra artista, torniamo, invece, a un'altra artista che ha fatto la storia in ambito cantautorato pop sperimentale, in un certo senso, e è una delle artiste che più mi ha segnato assieme a Bjork. Sto parlando di Kate Bush, in particolare dell'album The Dreaming. Kate Bush è difficile scegliere tra questo o Hounds of Love, che è il suo album più famoso, in realtà contiene del... cioè è un album perfetto, Hounds of Love, ma trovo che The Dreaming abbia comunque quella spinta in più nella creatività. Estremamente creativo questo disco. Fuori di testa. Cioè anche i singoli di questo album sono assurdi. Cioè tuttora, dopo 30 anni dall'uscita, sembra un disco di quest'anno. E così sarà tra 30 anni ancora. Cioè è un disco che allo stesso tempo ha influenzato una caterva di artiste successive, perché senza Kate Bush, senza Bjork, metà, anzi il 90% delle artiste alternative non esisterebbe, perché hanno fatto la storia. Per quanto sia stato questo, un disco iconico, sembra sempre attuale. Cioè è incredibile. È incredibile. È teatrale, ma mai eccessivo. È fuori di testa, ma comunque orecchiabile. E ha degli arrangiamenti assurdi. Così come gli arrangiamenti assurdi li troviamo qui. Talking Heads con Remain in Light. Vabbè, capolavoro ragazzi. Cioè per non parlare di Once in a Lifetime. Pezzone magnifico che può piacere anche chi cerca qualcosa di più radio friendly, ma allo stesso tempo capace di gasare chiunque. Vabbè, i Tolkien Head sono una delle mie band preferite. Questo disco non ha bisogno di presentazioni. Dovete ascoltarlo per forza. Un'altra band che mi ha segnato, soprattutto negli anni cupi dell'adolescenza, sono gli Swans di Michael Jaira. In particolare questo disco, che in realtà è tra i meno citati loro, ed è Filth. Io preferisco gli Swans, quelli belli cruenti cattivi dei primi anni, mentre molti preferiscono ciò che hanno fatto dopo. Secondo me, invece, la loro anima perfetta era quella abrasiva degli esordi. E Filth in questo è un fulmine a ciel sereno, nel ciel sereno degli anni Ottanta, basati sul fluo, no? Giswans erano proprio una controparte bella, aggressive, molto più violenta del metal, per dire. Un disco che ascoltavo tantissimo, e che molto spesso mi riascolta nei momenti proprio di, anche qui per spirito puramente esorcizzante, io adoro. Come non dimenticare anche un altro disco che mi ha segnato in quanto vai a fare l'alternativo da un'altra parte, ma effettivamente sì, ed è A Non Pleasures dei Joy Division, che ora devo vedere purtroppo stampato sulle magliette di alcuni ragazzini che ascoltano la trap, ma in linea generale, a prescindere, capolavoro. Capolavoro. Lo preferisco addirittura a Closer, per quanto ci sia una diatriba su quale sia l'album migliore dei Joy Division, ma trovo che Closer sia più raffinato probabilmente, ma questo mi parla, mi parla tutte le volte, New Dawn Fates, Days of the Lords, Disorder, ma poi Young Curtis, Young Curtis, mamma mia, piango, piango. I due dischi che non possiedo, invece, sono uno, Tago Mago dei Ken, che è un delirio psichedelico. Quando voglio partire per i viaggioni, lo piazzo, e lo ascolto, e io viaggio, non ho bisogno di prendere l'aereo, ascolto quello, e faccio dei viaggioni incredibili, un disco incredibile, stiamo parlando di un classico, del rock, art rock, se vogliamo, psychedelic, prog, non saprei neancraut, non so come si possa definire, ma non è importante definire le cose, che tuttora, anche questo sembra attuale, cioè, viaggione quel disco, e l'altro disco è Horse Rotorvator, dei Coil, Coil è un altro duo, un altro gruppo, che è stato fondamentale, nei miei anni dell'adolescenza, in particolare questo disco, soprattutto per quanto riguarda, uno, le atmosfere, che per me sembravano, prima volta che l'ho sentito, sembrava una cosa completamente nuova, questa atmosfera industria, l'anni 80 dark, eccetera, eccetera, e il secondo luogo, contiene una delle canzoni, che mi fa tuttora, un sacco piangere, che è, Ostia, Death of Pasolini, bellissima, voi me la piazzate su, io piango come una fontana, e quindi niente, questi sono i miei dieci dischi, che mi hanno cambiato la vita, fatemi sapere i vostri, fatemi sapere se in caso vorreste anche, la lista dei film, non lo so, datemi dei consigli in questo caso, fatemi sapere se qualcuno di questi dischi, li ascolterete, o li avete già ascoltati, cosa ne pensate, io vi aspetto per un prossimo video, vi mando un bacione, ciao ciao